Venire qua d'uno... Che vuol dire in coppa? Dopo tutto questo, rimanere in quello stato? Attenzione, vai piano. Va tutto bene. Sei nella cittadella. Puoi rilassarti ora. Pensavo che non ti saresti mai svegliato. Anche se mi hanno sempre assicurato del contrario. Mi fa proprio piacere vederti in vita. Va bene. Lo capisco. Non ho dubbi sul fatto che non abbia voluto che tu ti mettessi in pericolo. Le dobbiamo molto. E io... Io sono orgogliosissimo. Rilassati. Va tutto bene. Hai perso i sensi nella sala di controllo del purificatore. Ti hanno riportato qui per curarti. Da allora sono successe diverse cose. È successo. Il bacino della marea è pieno di acqua fresca e pulita. Stiamo facendo in modo che venga distribuita a più persone possibili nella zona contaminata. Infatti spero che smetteremo presto di chiamarla alla zona contaminata. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza te e tuo padre. Non so se sapremo mai ricompensarti. Sì, direi proprio di sì. 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 Non vorrei perderti ancora. Aspetto pazientemente i tuoi ordini. Aspetto pazientemente i tuoi ordini. Ciao. Ti saluto. Spero che ci incontreremo di nuovo. Rilevata presenza. Unità è stata attivata. Unità è stata attivata. Tu ci onori con la tua posetta. Con le ultime notizie. Ok. Sembra che il silenzio sia sceso sull'insediamento di Greidich. I residenti non sono venuti fuori per trattare con i membri della carovana. E i tentativi di stabilire qualche contatto non hanno sortito. Effetti. Allora se tu vieni da Greidich vorrai farci visita e vedere come stanno le cose. Alla prossima volta. Qui è tre cani. Qui è tre cani. Salve. Mi fa proprio piacere vederti in vita. Suppongo che Lions ti stia dando impasto ai leoni nell'arena. Ti ha raccontato cosa è successo mentre tu riposavi? Sì, non c'è problema. Vieni qui un attimo. Ti darò un breve resoconto di cosa è successo nelle ultime settimane e di cosa sta accadendo ora. Come ben sai, tutto questo è iniziato con l'occupazione del progetto purezza da parte dell'enclave. Qui. Grazie a te, il loro quartier generale, qui, è stato completamente distrutto. Dopo hanno subito una seconda sconfitta al purificatore. basandoci su analisi e rapporti sul campo, abbiamo trovato altre postazioni dell'enclave nella zona contaminata. Senza un capo ci aspettavamo che fossero allo sbando. Ma non è stato così. Basandoci sulle tecnologie e sui dati raccolti in questi luoghi, abbiamo scoperto che le forze dell'enclave intrattengono ancora comunicazioni remote. Abbiamo isolato le trasmissioni e trovato il punto d'origine. Una vecchia installazione militare a Rockland, a sud-ovest. Le nostre avanguardie hanno controllato la zona, ma non c'è un punto di accesso semplice. Quindi lo stiamo costruendo. Il paladino Tristan sta conducendo la squadra verso una galleria nei pressi del sito. Lì costruiranno una base. Quindi sarà utilizzato Liberty Prime. L'ordine di Prime è di neutralizzare le loro difese e creare un punto d'accesso per la squadra. La squadra si metterà in movimento per eliminare gli oppositori ed escludere il loro trasmettitore. Tutti i dati importanti devono essere portati qui. Hai altre domande? Se c'è qualcos'altro che ti posso dire, lo avviserò che stai arrivando. Direi proprio di no. È così. Grazie. 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 Grazie.